Per combattere la disinformazione Per combattere il dialogo è la più alta forma di informazione E poi ci si confronta Una cosa è lo studio teorico delle diverse religioni, delle diverse culture Una cosa è confrontarsi con una persona direttamente Io studiando non posso conoscere appieno una cultura Mentre incontrando persone di diverse nazionalità, di diverse culture, sì Per questo sono stato spinto a venire Every religion in the world, they give a message of peace If I tell you about my religion, Islam As I believe that in our holy prophet Hazard Muhammad, peace be upon him Give last message to the follower To the whole world, the world That there is no different color discrimination Or different geography or anyone But we all are human, we all are same in every aspect L'associazione culturale Dance Lab Armonia È un'associazione che porta avanti l'idea Che l'arte è uno strumento trasversale di unità fra i popoli Questo perché lavorando insieme, sudando insieme E ballando, in questo nostro caso l'arte è la danza Possiamo davvero sperimentare sul nostro corpo Che l'armonia è possibile Sì